Buongiorno, ha visto? Sono arrivato puntuale. Ecco, torni a casa in anticipo invece. Ma ho fatto una corsa, uehi! Mi batte il cuore! Guardi, a lei non la batte nessuno, non la batte. Ma che corsa che ho fatto! Mamma mia! Cosa sta facendo di bello? Sta leggendo il giornale, eh? Sto cercando! Perché non lo trova? Ce l'hai in mano, eh? Cosa sta leggendo? Le ultime notizie? Eh, ma non ci creda che sono le ultime. Dicono che sono le ultime, ma domani ne escono delle altre. Eh, fanno così tutti i giorni. Eh, caro mio. È arrivato il genio, è arrivato. Meno male. Ha parcheggiato la lampada qua di fianco. Eh, insomma... Sai che questa settimana è successa una cosa bellissima? Ho comprato un pappagallo! Sì! Adesso ce l'ho a casa, no? Io gli voglio insegnare a parlare. Così poi il pappagallo io lo porto qui con me. Lui ripete tutto quello che dico e lei mi può ascoltare in stereo. Ma che meraviglia! Guardi, ne compri cinque, così almeno l'ascolto in Dolby Surround. Eh, bella, sì. Prende anche un bel Barbagianni come subwoofer. Come subwoofer, Barbagianni. Eh, non ci avevo pensato, è una bella idea. È bellissima, guardi. Ma prima devo riuscire a addestrarne uno, eh, perché non è facile riuscire a insegnare a parlare un pappagallo, eh, caro mio. Mi hanno detto di lasciarlo davanti al televisore. Acceso. L'altro giorno l'ho fatto, solo che è andato un canale di quelli che fanno telepromozioni 24 ore al giorno. Eh, sono tornato a casa, ho cercato di vendermi un set di pentole, una cicletta e un materasso. È il problema che adesso è il materasso che non so dove metterlo, eh. Eh. Ah, caro mio. Anche lei ha fatto la spesa, eh. Cosa tocca? È roba mia, non tocchi, per favore. Cosa hai comprato di bello? Ho comprato la carne per il gatto. E la dà da mangiare al gatto? No, questa sera ho una cena con Catwoman. Ah, sì? Sì, viene a casa mia una volta alla settimana, siamo amici, amici, amici. Amici, amici. Eh, guardi, siamo molto legati, siamo. Non pensavo fosse amico di Catwoman. Eh, le do questa carne perché lei mangia solo quella. Una volta le davo la pasta che avanzavo ma non la mangia più adesso. Non la mangia più, è diventata. Falla difficile, vedi? Ho preso anche i croccantini come aperitivo. Ah, come aperitivo. Ma pensa un po', viene da sola Catwoman? No, con Penguin e Batman, vengo. Eh, sì, viene con loro due, viene. Anche con Batman. Se Batman ha voglia perché l'ultima volta si è un po' annoiato, dopo mezz'ora era già sul plafone appeso. Eh, si sa, senza Robin. Che dormiva. Senza Robin si annoia, poi. Eh, certo, certo. E per Penguin cosa ha preso da mangiare? Le surgelati. Ah, beh, c'è l'icciuccia, l'icciuccia. Eh, certo. Ho preso anche una banana, visto, perché verso mezzanotte dovrebbe passare King Kong. Ah, King Kong. Eh, insomma, che meraviglia, ma almeno in compagnia. Eh. Ma sì, va. Eh, insomma, fa freschino. Però non ci si può lamentare, eh. Vedrà che verso le 5, 5 e mezza cambia il vento, comincia a piovere. Come fa a saperlo? Eh, me l'ha detto il pappagallo. Tra una telepromozione e l'altra c'erano le previsioni del tempo. Eh, sì. Insomma, fa compagnia, eh, come bestiola, sì. Pesi che in questo periodo mi canta tutte le canzoni di Sanremo, che simpatico. Ha imparato a memoria la canzone di quel cantante, Gigi, come si chiama? Gigi, 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 Gigi D'Alasio. Eh, sì, Gigi D'Alasio, è proprio, perché era comodo a Sanremo, sono solo tre uccite, eh. Eh, sì. È andato al festival, è andato. È andato al festival, sì. Gigi D'Alasio, eh. Ha detto una bella cosa, lei. Bravo. Ha detto una cosa intelligente, bravo, bravissimo. È una cosa che io ho notato, perché è penalizzante. Gigi D'Alasio è stato favorito, era vicino. Ma alcuni cantanti, come Peppino Di Capri, eh, per arrivare ha fatto, ho dovuto draghettare da da Capri, poi tutta l'oreglia, sono arrivati che erano già stanchi, eh, caro mio, a me non sfugge niente, il mio cervello non perde neanche un colpo. No, no, guardi, il suo cervello gli ha presi tutti i colpi proprio, e grossi anche, ma tanti ne ha presi. Eh, caro mio, ma... Eh, caro mio, ma... Eh, già, 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 già. A proposito, prima l'ho vista entrare al parto, eh. L'ho vista scendere da una bella macchina. Grazie. È nuova? No, è usata. Perché non l'ha comprata nuova? Eh, la misera, perché ha preferito prenderla usata, eh. Ah, beh, tanto la compra nuova e dopo una settimana diventa usata. Non poteva aspettare una settimana. Eh, la miseria, che fretta. Eh, non l'ho, non l'ho capito. Non ce l'ha arrivato? No, no, non ci ho mai pensato. Eh, bisogna pensare nelle cose. Guardi che il cervello non è una cosa in più, eh. Guardi, nel suo caso è una cosa in meno, eh. Ah, ha fatto bene. Vedi a parlare di cervello, mi sono ricordato che oggi devo fare la spesa. Eh, mi stavo dimenticando. Devo comprare l'ananas. Perché l'ananas fa bene, io ne mangio tanto. L'ananas fa bene, brucia i grassi. Lei non lo mangi, se no si incendia. Ma cosa fa? Va via. Sì, ma stia qui, non vada via, torno subito. Vado in macchina a prendere il cric. È usato? Fra poco sì. Grazie. Grazie. Ave la Franza.